Opere di pubblica utilità inaugurate nell'annuale della marcia su Roma. Il vice governatore e un gruppo di personalità sanitarie inaugurano l'ospedale per le malattie infettive sulla via portuense. Il grandioso edificio, ispirato agli ultimissimi criteri di igiene, assicura la più accurata assistenza ai degenti e garantisce contro ogni diffusione del contagio. L'inaugurazione del nuovo edificio scolastico intitolato ad Enrico Corradini.